Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo con la quarta settimana di allenamento, ragazzi. Cominciamo con il petto, ovviamente lunedì faremo sempre petto. Primo esercizio, panca piana, cercheremo di arrivare a 60 kg. Io ci provo, ragazzi. Quindi faremo 30, 40, 50 e 60 kg. Ovviamente faremo 4 serie per 20, 15, 10 e 5 ripetizioni. Prima ci peseremo, ragazzi, ovviamente, e poi ci vediamo con il primo esercizio, panca piana. Prima ci vediamo con il primo esercizio. Ragazzi, stiamo pian piano aumentando peso, siamo arrivati a 58,35 kg. Ovviamente, il grasso corporeo è normale che aumenti anche 12,5 kg. Va bene così, siamo in massa, ragazzi, quindi ci sto. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. 60 kg chiusi. Con difficoltà, lo ammetto, ho fatto tantissima fatica ma ho chiuso i 60 kg finalmente. Adesso dobbiamo diventare sempre più forti per arrivare verso i 70 kg che è il mio prossimo obiettivo. Adesso ragazzi, secondo esercizio ovviamente panca inclinata, ci vediamo all'esercizio ovviamente. Vedrete solo una serie, faremo 3 serie per 8 ovviamente. Il peso rimarrà sempre 42 kg. Niente raga, la fila è aumentata anche qua. 44 kg. Ci vediamo con la serie. 3 esercizio. Pagca inclinata, sempre con lo stesso peso. 44 kg. Aumentiamo di più 2 anche qua. Ci vediamo con l'esercizio. Voi vedrete una serie. Io farò 3 per 8. 4 esercizio. Ovviamente faremo spinte con manubri. Quelle per il petto basso ovviamente. Quelle così. Faremo 4 serie per 10 ripetizioni per lato. Ovviamente il peso 10 kg perché è un esercizio pesante. Ragazzi, ci vediamo all'esercizio. Musica 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 Ragazzi, aperture. Ho mantenuto la promessa. 14 kg. 14 kg a manubrio ragazzi. EX 14 kg non sono poche, però vabbè Cercheremo sempre di migliorarci ovviamente come noi siamo abituati a fare. Di video in video aumentiamo sempre qualcosa. Onestamente sono arrivato al limite adesso però una settimana dovrò fare rest ovvero senza aumenti però poi piano piano aumenteremo. Ovviamente ragazzi all'apertura faremo sempre 3 serie per 10. Cercheremo di farlo in 10 non lo prometto però cercheremo di farlo in 10 perché ho 14 kg non li ho mai fatti in questo nuovo allenamento perché ne avrei dovuto fare bisogno a 18 kg però vabbè sono le dettagli questi. Cominciamo con la prima serie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok ragazzi allenamento terminato ho chiuso sempre le 10 rep con tantissima fatica però quindi 14 kg attualmente ci resteremo anche per la settimana prossima. Sono pesanti 14 kg. Ora ragazzi addominali e poi check fisico ovviamente ragazzi gli addominali comincieremo con crunch poi crunch laterali e alla fine i leg raises da seduti. Ok ragazzi ok ragazzi. Ok ragazzi crunch fatti ovviamente adesso crunch laterali faremo 3 serie per 10 per lato o 15 non lo so dipende da quello che riusciamo a fare. Ok ragazzi grazie a tutti. Ok ragazzi crunch laterali fatti. 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 Ok. 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 Allora, year tenare di prof¬ bambini in camerata.